Entro dicembre lo stadio San Nicola di Bari sarà dotato della nuova copertura sul primo petalo, quello della curva Nord, in prossimità del maxischermo. La Giunta Comunale ha approvato otto contratti attuativi relativi all'installazione dei 26 petali di copertura dell'impianto sportivo, per un importo complessivo di 7 milioni di euro. Ogni contratto riguarda la produzione e il montaggio di tre petali, a eccezione di due, che invece ne prevedono quattro ciascuno. I lavori proseguiranno in modo graduale, la copertura scelta sarà simile a quella precedente, quindi di colore chiaro, ma l'assemblaggio dei singoli petali sarà realizzato in cantiere attraverso la saldatura di tre elementi a fasce, grazie a una tecnica in grado di facilitare eventuali sostituzioni parziali in caso di danneggiamento. Il materiale scelto è in fibra di vetro, con caratteristiche qualitative superiori per quanto riguarda tenuta e resistenza, e con una nuova soluzione di ancoraggio dei teli che riduce molto le sollecitazioni legate al maltempo e alle oscillazioni provocate dal pubblico. Dopo la copertura del primo petalo arriverà anche il primo maxi schermo in curva sud, poi si procederà col montaggio dei 26 petali entro la prossima estate. Continua anche la sostituzione dei seggiolini nella tribuna ovest inferiore. In giunta abbiamo approvato i contratti attuativi dell'accordo quadro per i petali, per tutti e 26 i petali dello stadio San Nicola. Iniziamo credo la prossima settimana con il primo in curva nord, perché è il settore dello stadio con più tifosi, maggiormente partecipato, e con un cronoprogramma uno dopo l'altro fino ad agosto li posizioneremo tutti e 26 le coperture, i petali. Nel frattempo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio monteremo il primo maxi schermo, quello della curva sud, e come avete visto tutti i colori quali vanno allo stadio stiamo sostituendo tra le partite in casa del Bari pezzi della tribuna ovest inferiore, trasformando anche quell'ultimo settore dello stadio in un bianco rosso, togliendo i vecchi seggiolini. Questo vorrà dire che per la prossima stagione avremo uno stadio San Nicola rimesso a lucido, con le coperture, con tutti i seggiolini bianco-rossi e con il maxi schermo, dove sarà possibile rivedere le azioni dei nostri gol.